E quest'anno, oltre a vincere il campione italiano per la seconda volta, terza, ormai sono diventate abituenti questo titolo, sono state così caparbie, ma così tanto, da riuscire ad entrare nelle finali di Ballando on the road. Le avete viste sul Rai 1! Ci sono riuscite le nostre signore... Grazie! 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 Bravissime! 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 Grazie! Grazie a voi, anche se Carmelo ci fai una carrellata? Si fa! Grazie mille! Grazie anche a Carmelo che è tornato qui con noi! Ci sento a casa Carmelo! Adesso!